Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Mare e Perlavori si segnalano rallentamenti tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina e tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Eraest. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. A Firenze, per lavori di riqualificazione in via Mariti fino al 19 gennaio, restringimenti di carreggiata a tratti. Infine per quanto riguarda i treni, per lavori di manutenzione del viadotto stradale sul fiume Arno a San Donnino, oggi e domani interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze ed Empoli. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie! Grazie!